Allora Andrea, di nuovo sulla lizza, a giugno ci sono stati tanti problemi, subito prima che tu dovessi tirare i problemi con il buratto titolare, come ti sei sentito a scendere giù al pozzo? Ma ormai ci sono abituato, guarda, ti dico la verità, no no, comunque a parte tutto, a parte gli scherzi, lì per lì un po' la prensione c'era, però la passione è talmente forte che diceva, vabbè, andiamo. Dopodiché è tutto tranquillo con il buratto di Sevan? Sì, tutto benissimo, ho provato una cavallina nuova, l'ho presa un mese fa, sta andando molto bene, quindi al 99% corro con lei, quindi stasera tutto positivo. Bene, ottimo.